Si tratta di un'attività di prevenzione ma anche di repressione, quindi un'attività di controlli periodici e costanti che si sono già cominciati la scorsa settimana e continueranno anche nei prossimi giorni, finalizzati a controllare soprattutto i soggetti per quanto riguarda la Polizia di Stato, per quanto riguarda la Polizia Locale, i veicoli e le merci che questi trasportano con dei risultati già concreti dal punto di vista sanzionatorio e quindi con un primo effetto di alleggerimento. delle presenze sulla piazza. Lo spettro di intervento ed ampio va dalle persone, quindi dalle persone con pregiudizi penali, fino al controllo delle norme della circolazione stradale e di norme amministrative che concernono la regolarità della vendita, quindi necessariamente un intervento a 360 gradi che occupa spazi di competenza tanto della Polizia di Stato quanto della Polizia Locale e in effetti nei servizi abbiamo attivato i nostri canali di intervento, ossia misure di prevenzione sulle persone con pregiudizi penali e sono stati attivati parallelamente ai canali di intervento della Polizia Locale per quanto riguarda le violazioni al codice della strada e le violazioni amministrative. E' importante che anche i residenti e gli stessi operatori abusivi sappiano che l'attenzione della forza di Polizia dello Stato e locali c'è, si sta sempre più alzando la soglia d'attenzione e quindi questi interventi continueranno nel tempo ma con una temporizzazione che non siamo in grado di anticipare ora.